L'Altitrust dice basta le proroghe ai balneari e chiede di accelerare sulle gare. Si tratta di un vero e proprio richiamo inserito in una segnalazione che la stessa Antitrust ha inviato a Lanci, l'Associazione Nazionale Comune Italia e la Conferenza Stato-Regioni ed ha inserito sul proprio bollettino settimanale. L'autorità rispetto alla tempistica sollecita inoltre gli enti locali affinché tutte le procedure selettive per l'assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l'assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre del 2024. Il commento di Riccardo Padovano, Presidente regionale Sib Confcommercio. Quindi la domanda che pongo io, ma ho letto poco però da parte dell'Antitrust per quanto riguarda le concessioni autostradali, per quanto riguarda le concessioni delle acque minerali, per quanto riguarda le concessioni dell'impianto di risalita, per quanto riguarda le concessioni che sul demanio marittimo non soltanto fanno attività banneare ma fanno altro. Io per i cantieri navali potrei fare un elenco, ma come mai? La discussione dei media e di tutta la comunicazione si basa soltanto e esclusivamente su quello che fanno gli stabilimenti banneari, trasmissioni televisive che ci dipingono come se noi fossimo i ladri del sole, i ladri dei servizi. Noi siamo delle imprese che hanno investito su queste attività e comunque tornando all'articolo che ho letto oggi sull'Antitrust a richiamo, voglio dire pure richiamare io e adesso i sindaci che si dessero da fare attraverso l'Anci a combattere per loro, per i comuni, che loro in cassa fanno un'attività amministrativa, quella di riscuotere il canone da parte degli stabilimenti banneari e poi riversarlo allo Stato e non tenendosi per loro, per i comuni, una parte di quella quota. Nel frattempo Sib e Fiba hanno comunque sospeso gli scioperi del 19 e 29 agosto, ma di certo non demordono e si rivolgono al governo italiano. Allora è il caso che appena si torni dalle ferie di attivare subito, non un tavolo, mi sono scocciata a sentire tavolo tecnico, no, deve attivare la parte politica e deve intervenire subito e mettere in mano. Attenzione che se si va a fare le evidenze pubbliche e lo diamo in mano ai comuni, rischiamo di fare una torre di Babbele, si aprirà un contenzioso all'infinito, rischieremo di avere nelle spiagge del 2025 non così bene attrezzate, ma forse occupate e forse dietro a tutta questa marca ingegna ci sta qualcuno che sta lavorando, condizionando anche le opinioni. Posso sincerizzare, se parla tanto di caro prezzi, caro prezzi, ma perché non vi fermate dentro un'autogrill e chiedete quanto costa un cornetto algida, da noi costa circa 2,20 euro, l'autogrill 2,99 euro. È bella la politica dei prezzi, che noi facciamo i prezzi alti, ma perché non andiamo a vedere quando costano il caffè, quando costano le tre cose le altre parti, perché non fa notizie, no, perché non ce le fanno entrare.